Chi si riuniva insieme, sta insieme riuniti nell'amore di Gesù, nostro creatore. Adè io pacco il televisore, va. Spacco il televisore, sai che chioppo? Come negli anni 80 che andavo in giro fino al 90, quando ero piccolo, a spaccare i televisori. Aspetta, sai che chioppo? Aspetta, adesso chioppo un televisore. Miseria che chioppo, no miseria, ha scoppiato tutto, pure il motore. No miseria che chioppo, mi ha gustato, finalmente un televisore che ho appaccato dopo 10 anni, 15 anni, quant'è che non lo pacco più? Questa è una lavatrice, questa è che lavatrice è, candi, candi dell'80. Guarda le piccole un cestì, non si apre chi, non si apre più, chissà se se pacca il cestì. Se pacca il cestì? Io non ho appaccato mai un cestì della lavatrice, a pensare che ho fatto i pezzi per 18 anni, delle lavatrice. Guarda lì ho una bottiglia d'Ambriaghi, una bottiglia. Una sedia. Oh, un tavolì anni 80, un tavolì dell'80. E' viva. A posto. Eh, guarda che, eh, eh, una damigiana di lì, guarda che damigiana di lì, che contadino. E' una miseria, oh. Oh, qui c'è qui, oh, una rivista, una rivista, oh. Chi è questo? Chi è qui su? Quello che è morto di corse. Ha dei bicchieri, anni 80, 70. Oh, un succo di frutta, anni 80. Eh, anni 80, questo succo di frutta. Guarda lì che macello. Che macello qui. Oh, non si rompe. E' infrangibile. E' infrangibile. Oh, non si rompe, oh. E' cos'è lì? Cos'è lì? Vabbè, oh, non si rompe, oh. Ancocce, eh. Che pensa, ancora c'è, guarda che, oh. La vernice blu, chi c'è sta, un maschio? Eh, lampadario, le tende, anni, anni 70. Due, oh, due la bottiglietta. Ecco la tizzo qui da frutta. Oh, l'ho rotta, oh. Ho rotto tutto e due. Chi c'è là, oh? Mi sa qui c'è cosa c'è sarà qui. Chi c'è, oh, chi c'è, chi c'è? Questi, non so, chissà. Questi per dare bastonati. Sti a fare i chi? Qua chi c'è? Ah, e chi vuoi che c'è, chi vuoi che c'è? Oh, chissà sti a fare scoppiare con la lampadina. Con la lampadina. Non puoi vedere si puntadina. Se può paccare con la lampadina? No, oh, non si rompe. Si è rotto il mattò anziché la lampadina. Fammi un po' andare a voler. Che macello, finite la batteria, oh. Guarda, chi c'è chi, oh? Guarda lì l'oliva. Guarda. Eeeh. Porca miseria, che roba. Eeeh, chi c'è qua, oh? Chi c'è? Chi c'è nel cesso? E il bagno c'è? Oh, guarda l'è bello il suo bagno. E' lungo. Eeeh, guarda un po' la lampadina. Qui c'è chi? Ma cagà. Guarda un po'. E' il batticlò. Eeeh, le olive, i marci. Dei trent'anni fa. Guarda che piatti belli, oh. Eeeh. Oh, guarda la padella attaccata su. Qui, guarda, oh, la nutella anni Ottanta. I, i succhi di frutta anni Ottanta. Eeeh, un porta, un porta cuccioli. Questo cos'è? Un buco pescolo, oh. Bel piano da sotto. Hai visto? Porca miseria, che roba. Tutto attaccato su. E il cesso. Questo cos'è? Oh, qui? Qui è un altro piatto. Aspetta, questo per pulire lì. Questo per l'ambriaghi. Oh, cuccienne, oh. Cuccienne. Eeeh. Oh, che non si rompe. A posto. Cuccienne. Questo qui. Questo qui. Guarda, questa qui. A posto, oh. Questo qua, oh, mangiava nella nutella. E' renecolosi, eh. E' renecolosi, guarda un po'. Nutella e cioccolato. Non si rompe, oh. Non si rompe, adesso lo spacco io, va. Guarda, guarda. A posto. A posto. Du pre...